Con le tecnologie additive della società tedesca EOS abbiamo realizzato delle nuove soluzioni tecnologiche per tutti i sistemi di robotica che hanno necessità di manipolatori e afferratori meccanici. In questo caso abbiamo costruito, strato sopra strato, in un materiale flessibile ma molto funzionale, un cosiddetto gripper autoadattivo, sostanzialmente consente di adattarsi in modo passivo alla forma che deve essere manipolata. Questo esempio invece è una realizzazione di un materiale polimerico speciale che si chiama PIC, che è una plastica ma che ha comportamenti stile metallo, stile alluminio. In questo caso è stata riprodotta esattamente la forma di uno Stradivari scanalizzato da un originale che ha suscitato anche molto interesse, che è diventato sostanzialmente un'icona delle tecnologie di tipo additive dove l'anno scorso l'Economist ha utilizzato questo oggetto come immagine della nuova rivoluzione industriale.